Ora vediamo i concetti di presidio, unità operativa, servizio e ufficio. Per comprendere i testi e le norme relative all'organizzazione sanitaria occorre soffermarsi su alcuni termini che definiscono le strutture e i modelli organizzativi. Uno di questi è il presidio. Cosa si intende per presidio? Il presidio è una struttura complessa dell'azienda sanitaria ed è dotata ad una organizzazione all'interno. Un distretto, per esempio, può essere costituito da diversi presidi, il presidio polioinvolutorale A e il centro per gli epipiologici. Cosa si intende mentre per presidio ospedaliero? Il presidio ospedaliero è la struttura organizzativa preposta alla promozione, al mantenimento e ripristino delle condizioni di salute della popolazione, assicurando diagnosi e cura per mezzo di prestazioni specifiche di ricovero e di tipo ambulatoriale. Ora vediamo cosa si intende per unità operativa. Sono delle strutture operative dotate di una loro autonomia e di un responsabile, che lavorano in modo unitario al fine di raggiungere uno specifico risultato. In alcune regioni non si parla di unità operativa, bensì si parla di divisione. Ora vediamo che cosa si intende per concetto di servizio. Sotto il profilo organizzativo possono essere dei settori che fanno parte di strutture operative più complesse, facendo riferimento al dirigente. Per esempio una divisione ospedaliera può essere costituita oltre che da un servizio, un reparto di degenza, anche da alcuni servizi. Esempi il servizio di endoscopia, il servizio di diabetologia e altro. Altre volte invece viene utilizzata per identificare una grossa articolazione in genere di tipo dipartimentale delle aziende, per esempio al servizio infermieristico, che raccorda e gestisce sotto il profilo professionale tutti gli infermieri di una detta azienda. Mentre in altri casi, soprattutto nel linguaggio comune, queste strutture operative che supportano l'attività sanitaria a volte non gestite direttamente dalle aziende, ma da strutture private convenzionate con l'azienda stessa, per esempio al servizio di lavanderia, al servizio di pulizia. Ora vediamo che cosa si intende per il concetto di ufficio. Gli uffici sono tutte quelle strutture non autonome, con carattere soprattutto di tipo amministrativo, che fanno parte di servizi, unità operative, o altre strutture dotate di una propria autonomia operativa. Tra quelle più importanti, quelle che comunque viene rivolto più al cittadino, è per esempio l'URP, che appunto è l'ufficio preposto per le relazioni con il pubblico. L'ufficio, l'URP, è stato istituito per gli edempimenti del cui è l'articolo 12 del decreto legislativo numero 29 del 1993. Grazie. Grazie. Grazie a tutti